Il Forum Toscano delle Associazioni per i Diritti della Famiglia ha vent'anni ripercorsi in un incontro nella sede della Regione Toscana di Palazzo Strozzi Sacrate a Firenze alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale all'Welfare Stefania Saccardi, dell'Arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori e dei presidenti regionale e nazionale del Forum Francesco Zini e Gianluigi De Palo. Il Forum a livello italiano raccoglie 400 associazioni. In Toscana la collaborazione tra Regione e Forum è stata siglata con una specifica intesa che ha già dato importanti risultati. È un'associazione di associazioni che si occupano di promuovere il ruolo e la funzione della famiglia e con la quale la Regione da un po' di tempo collabora con una serie di protocolli che lavorano sia sul tema dell'educazione e della prevenzione sia sul tema dell'accompagnamento ad alcune attività e ad alcuni consigli sul fronte dei consultori. Quindi un lavoro che facciamo con un mondo del volontariato come facciamo con molti altri mondi di volontari e che ci dà una mano abbracciando un settore specifico della formazione e dell'educazione alla vita di coppia, alla conoscenza reciproca, alla sessualità, alla maternità. Nel corso dell'evento sono state ricordate le esperienze attuate dal Forum Toscano anche alla luce della Carta dei diritti della famiglia. Il Forum Toscano è parte di una rete che rappresenta 3 milioni di famiglie e 12 milioni di persone.